gentili telespettatori buona giornata e così laura boldrini cerca di colpevolizzare la lega per il caso di giovanna pedretti la lega faccia mea culpa in che senso che cosa centrerebbe la lega in questo così così su due piedi direi che non c'entra assolutamente nulla ma voi sapete per esempio che anche ieri giannini ha cercato di tirar dentro meloni e salvini per questo fatto e laura tenta di trascinare nel caos cioè trascinare in questo caso salvini e meloni e quindi le prova tutte mentre la destra cerca di trascinare dentro invece la lucarelli dicendo che colpa della lucarelli del compagno quindi i giornali di destra dicono che colpa di lucarelli e compagno mentre i giornali di sinistra ti dicono che colpa di salvini e meloni facendo tutto dei dei giri delle teorie bene dice così la boldrini sentite come cerca di tirar dentro salvini e meloni in questo caso soprattutto salvini sul caso pedretti dice la lega e salvini hanno fatto scuola sull'odio in rete e così si parla da david parenzo all'aria che tira sulla sette accusando il la lega e buttandola in politica lo spunto è un tweet in cui la lega di salvini puntava il dito contro la sinistra spietata con i deboli e servile con gli amici quindi qui la lega come vi dicevo prima cercano di colpevolizzare lucarelli e il compagno voi direte cosa hanno fatto sta lucarelli e sto compagno hanno semplicemente detto secondo me secondo noi quella recensione è falsa è un'opinione no è vietato in italia dire secondo me quella recensione è falsa no l'hanno detto però salvini e la lega i giornali di destra hanno cercato di di far capire all'elettorato di portare l'elettorato a pensare che la sinistra per mezzo dei loro opinionisti come la lucarelli sono spietati con i deboli quindi con la ristoratrice sconosciuta ai più e mentre poi sono deboli e servili con gli amici no ecco quindi questo avrebbe detto un post che poi non è che viene fatto da salvini c'è ci sono delle persone che lavorano per salvini sui social lui dà magari delle indicazioni poi altri fanno il post quindi spunta questo post della lega diciamo così che senza fare il nome di selvaggia lucarelli e del e del compagno lorenzo biaggiarelli dice questa sinistra spietata con i deboli e servile con gli amici ovviamente è riferita a queste due persone che vi ho appena detto però anche qui qui è il gioco che sta facendo anche la boldrini allora la boldrini giannini la sinistra stanno cercando utilizzando questo fatto di cronaca di scaricare le colpe sul centro-destra mentre il centro-destra cerca di scaricare le colpe su questi opinionisti di sinistra quindi tutte e due le fazioni tutte due le squadre di calcio accusano l'altro è colpa tua no è colpa tua colpa vostra no è colpa vostra questo è il punto quindi la boldrini dice che salvini ha fatto scuola sull'odio in rete e quindi dice alla fine visto che lui ha fatto scuola lui è il maestro è il maestro di vita dell'odio in rete un po il donascimento della politica lui maestro di vita dell'odio in rete alla fine se esiste l'odio in rete colpa di salvini che però non è vero non è vero l'odio in rete non è non è stato inventato da salvini non è il padre degli odiatori in rete in rete ci sono gli odiatori perché ci sono tante tante motivazioni tante concause ne abbiamo sempre parlato diciamo che salvini come tanti altri ha utilizzato la rete per commentare i fatti portandoli a favore del suo partito elettoralmente a suo favore pertanto i politici cosa fanno commentano i fatti che ritengono interessanti per la causa elettorale del proprio partito quindi salvini fa i suoi commenti la meloni fa i suoi conte fa i suoi la schline fa i suoi ognuno in rete fa commenti su quello che succede poi gli avversari invece ti raccontano che gli altri sono praticamente degli stigatori d'odio mentre loro sono ecco quindi la boldrini dicendo che è colpa di salvini sta istigando gli odiatori contro salvini quando salvini dice che quelli di sinistra sono spietati con i deboli e servili con gli amici stanno aizzando o sta aizzando gli odiatori verso la lucarelli quindi se voi notate i politici dicono quegli altri li aizzano gli odiatori ma loro stessi dicendo che gli altri aizzano stanno aizzando gli odiatori contro gli altri avete capito un po come come funziona tutti fanno i buoni dicendo che gli altri sono cattivi ma dicendo che gli altri sono cattivi reciprocamente stanno aizzando i vari gruppi di odiatori contro le varie parti politiche ecco quindi dico no alla teoria che salvini ha fatto scuola sull'odio in rete no salvini ha fatto le sue propagande e dico no a lucarelli e il compagno biaggiarelli che sono istigatori d'odio in rete in rete si commenta e se sei una persona in vista i tuoi commenti vengono visti più degli altri però prendere i commenti di una persona e dire che tutti i commenti sono istigazione perché se tu dici non mi piace di maio stai istigando contro di maio se tu dici non mi piace briatore allora istighi gli odiatori contro briatore allora dici la santanchè non ha pagato i dipendenti al tu stai istigando gli italiani contro la santanchè insomma allora il commentatore diventa alla fine l'istigatore il sollevatore di gruppi di odiatori in serie ecco diciamo che bisognerebbe un po usare il cervello e cominciare a distinguere le cose in maniera reale senza fare propaganda da quattro centesimi grazie a tutti e arrivederci a presto